Ciao e benvenuto, sono Paolo Mazzini, titolare di Mazzini Serramenti, un'azienda che dal 1969 produce infissi in legno ed è particolarmente specializzata nella produzione di infissi per centro storico. Ti faccio una domanda, quanti ritardi hai accumulato nei cantieri negli ultimi anni? Di sicuro ti saranno costati pure un sacco di soldi, a volte sarà per colpa di noi fornitori o sbaglio. Prova a pensare, tu sei lì in cantiere, c'è tutto pronto per instruire gli infissi e gli infissi non arrivano, un bel problema no? Immagino quanti stress che ti ha provocato, molto spesso è colpa del fornitore che hai scelto che non è affidabile. Io sono 15 anni che lavoro in questo settore e conosco bene la differenza tra lo scegliere un fornitore affidabile e non averne uno. Prova a pensare, tu hai già ordinato gli infissi, sei in ritardo con la consegna, il tuo committente ti chiede di modificare il senso di apertura della finestra perché ha modificato la disposizione dell'aredamento. Tu chiami subito il tuo fornitore e scopri che quel serramento che è già stato prodotto deve essere completamente rifatto. Tu a malincuore gli dai le conferme, lo pressi e gli chiedi di farti una consegna urgente. E lui ti risponde che si deve procurare il materiale perché quel materiale che il committente ha scelto aveva una finitura speciale e lui non ce l'ha in magazzino. Come risolvi una cosa del genere? Ecco il magazzino dove noi abbiamo la materia prima che ci permette di avere il materiale sempre pronto per i nostri serramenti anche per i profili più particolari. Immagina che dobbiamo fare delle conizie personalizzate per rifinire bene il serramento a causa di una controparete che è stata fatta in un secondo momento e che è un po' fuori piombo. Devi trovare il fornitore che te la faccia. O magari provo a pensare che devi modificare i serramenti perché le solle sono state installate in una quota diversa rispetto a quella che era prevista. Grazie ai nostri macchinari possiamo produrre profili fuori standard adatti al centro storico. Ogni fase della produzione può essere modificata per fare profili personalizzati e per effettuare modifiche anche in corso d'opera. Non curiamo solo le forme per soddisfare le richieste della sovrintendenza ma curiamo anche la superficie per soddisfare la committenza più esigente. Infatti ogni pezzo viene carteggiato e stuccato manualmente per ottenere superficie perfettamente rifinite. Abbiamo 50 anni di esperienza sia nella lavorazione del legno che nella risoluzione delle specificità di un cantiere in un centro storico. Abbiamo sviluppato procedure specifiche per trasferire le informazioni in modo preciso e veloce dal cantiere alla produzione in modo tale che possiamo gestire sia delle modifiche urgenti che dei profili fuori standard. Devi ristrutturare un edificio in centro storico e non trovi chi ti produca i serramenti adatti nei tempi giusti? Avendo un numero importante di fagliami esperti possiamo gestire grosse commesse e svolgere tutto il lavoro nei tempi previsti. Il fatto di eseguire tutto il processo produttivo internamente dalla selezione della materia prima al montaggio in cantiere ci permette di eseguire questi lavori particolarmente complicati in centro storico perché non dobbiamo comunicare a fornitori terzi eventuali estralavorazioni ma le comunichiamo direttamente ai nostri operatori, ai nostri falignami quelli interno del reparto produttivo. Adesso ti saluto lasciandoti con la descrizione di alcuni lavori che abbiamo eseguito in centro storico ti trovi in questa pagina sotto a questo video. Intanto ti ringrazio per avermi ascoltato e ti saluto.